Allora, abbiamo uno spazio vettoriale di campo K che siano 1, v2, vh, w1, w2, wk basi di v ho usato l'indice K piccolo, non c'entra niente con K grande K piccolo è un numero ovviamente un numero annacurato Allora K è uguale ad H mi prendiamo due basi generiche completamente diverse e devono essere lunghe e uguali Allora, basta mostrare che se K è maggiore o uguale ad H Allora, K è uguale ad H Allora, per dimostrare che sono uguali queste due lunghezze delle basi io devo dimostrare la doppia disuguaglianza però in realtà mi basta dimostrarlo da una parte sola Allora, cioè che se per esempio K fosse più grande di H la deve essere uguale perché ovviamente se fosse l'H ad essere più lunga scambiarei le due basi per fare lo stesso alternamento Allora mostriamo Innanzitutto che esiste un J1 tale che W1 W2 WJ1-1 W1 WJ1 W1 W1 1 W1 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 W2 W1 W1 W2 Allora l'idea qual'è? E' che io voglio sostituire uno alla volta dei vettori di questa base con i vettori di questa base Allora per primo qua chi ci sta? V1 Allora prendo V1 e devo far vedere che lo posso andare a mettere al basso di uno di questi Ok? E quello che io tendo con una base Ok? Allora Allora Vediamo un po' se mi conviene fare così No, mi conviene fare Scusate, cancellate questo pezzettino qua Esiste che è J1 tale che VJ1, W2, W3, WK è in base di uno Così è anche più semplice è un po' più semplice Cioè voglio togliere W1 da questa base e al posto di questo ci voglio mettere uno di questi Allora come faccio? Vado a prendere W1 è un vettore di V quindi W1 esistono λ1 λh tale che W1 sia uguale a somma per J che va da 1 ad H di λj vj ok? Allora vi ricordo che questo qua è un vettore di una base quindi un sistema di genere diciamo è una parte libera quindi non è nullo quindi posso dire che esiste J1 tale che λj1 è diverso da 0 altrimenti se tutti questi fossero tutti nulli qua avrebbe il vettore nulla non sarebbe nulla quindi dico appunto che vj1 w2 wk è ancora una base è ancora una base quindi questo qua si può esprimere come una combinazione allora perché questo si può esprimere come una combinazione lineale dei v? perché questa era una base ok? allora poi uno di questi coefficienti deve essere diverso da 0 allora vado a prendere il vettore corrispondente e lo voglio mettere al posto di w1 e dico che è ancora una base allora proviamo a vedere che allora vediamo un po' io cosa devo dimostrare? devo dimostrare devo dimostrare che devo dimostrare che questo è un sistema di generatori e che è una parte libera ok? e ero sbagliato però è la giusto prima è la giusto prima cioè non viene più facile così allora allora lo ripeto così poi magari il montaggio taglia e riparte da qua allora vogliamo dimostrare adesso il seguente teorema sia v uno spazio vettoriale su k prendiamo prendiamo due basi a priori di lunghezze diverse e vogliamo dimostrare che hanno la stessa lunghezza basta mostrare che se k è maggiore o uguale di h allora k è uguale a basta scambiare il ruolo delle due basi allora cominciamo a mostrare innanzitutto che esiste j uno tale che quindi u doppio uno u doppio due u doppio j uno meno uno u con uno u doppio j uno più uno u doppio k è ancora una base di u ok allora prendiamo a v con uno prendiamo a v con uno v con uno prendiamo e questo lo scriviamo come somma per j che vada da uno fino a k di lambda j v doppio j siccome questa è una base non tutti questo qua è un vettore di un'altra base quindi non è in uso non tutti questi coefficienti sono nulli quindi esiste j uno tale che lambda j uno è diverso dal zero allora andiamo a a prendere w doppio j allora prendiamo w j uno e lo sostituiamo con v con uno e dico che ottengo ancora una base allora per far vedere che sia una base devo dimostrare che un sistema di generatore è una parte ricca cominciamo a vedere allora da questa relazione dalla relazione asterisco ottengo che w j uno è uguale a meno somma per j che va da uno a k j vediamo un po' di spazio meno uno su lambda j uno che moltiplica v con uno meno la somma per j che va da uno a k j diverso da j uno di lambda j w j lambda j w j cioè cosa ho fatto? allora io qui avevo v con uno che è espresso come combinazione lineale di questi uno di questi ha un coefficiente non nullo magari più di uno però almeno uno ci sta allora mi prendo quello che era lambda j uno w j uno mi porto tutto il resto dall'altra parte e poi divido per lambda j questo che cosa mi dice? mi dice che w j uno appartiene allo spen di w w w w w j uno meno uno v u w j u diciamo v con uno v scusate ah scuola questa era v con uno w j uno più uno merba o doppio questo vuol dire ancora continuo su quest'altra lavagna questo vuol dire a sua volta che lo spend di doppio 1 il doppio a il doppio k è contenuto nello spend di w1 w2 wj1-1 w1 wj1-1 wk per quale motivo? allora qui ci sono i vettori generati da questi in questo spend ci sono i vettori generati da w1-w2-wk qui ci sono i vettori generati da w1-w1-w2-w2-w2 i vettori sono gli stessi di prima l'unico che è stato sostituito è stato WJ1 al posto di WJ1 ci ho messo W1 ma siccome WJ1 ci sta in questo SPEN che l'ho visto prima singolarmente tutti questi vettori appartengono a questo SPEN allora siccome lo SPEN di questi vettori è un sottospazio vettoriale e questo qua è il più piccolo sottospazio vettoriale che contiene questi lo spazio generato siccome tutti questi vettori stanno nello spazio vettoriale generato da questi allora quello che genera non può uscire da quelli là e quindi questo SPEN sta dentro a questo allora ma questo qui era tutto W per quale motivo? perché W1, WK era una base e quindi cosa abbiamo dimostrato? che se prendo W1 e lo metto al posto di WJ1 rimane un sistema di generatori adesso devo dimostrare che rimane una parte libera quindi WJ1, WJ2 W1, W2 WJ1, W1, W1, WK è un sistema di generatori perché quello che genera contiene questo e quindi contiene questo quindi andando a prendere WJ1 e mettendoci al suo posto W1 mi rimane un sistema di generatori prendiamo adesso a somma che c'è che va da 1 ad H che cos'è questa? è una combinazione lineare dei vettori che stanno qua questo chiamiamolo W1 perché poi più in là ci saranno anche W2, W3 e quindi ci saranno anche W2, W1 è una combinazione lineare cosa dobbiamo dimostrare? che tutti i coefficienti sono diversi sono uguali a 0 perché dobbiamo dimostrare che parte lì io dico che se W1 è uguale a 0 automaticamente questi per quale motivo? perché se questo fosse uguale a 0 questa qua sarebbe una combinazione lineare di tutti i vettori di prima meno 1 ma siccome quella era una parte libera togliendo i vettori di WG1 rimane ancora una parte libera quindi se è 0 mu con 1 automaticamente sono 0 tutti gli altri quindi supponiamo per assurdo supponiamo per assurdo che mu con 1 che mu con 1 sia diverso da 0 allora sostituendo questi qua ma scusate chiamiamoli alfa J perché li voglio chiamare alfa J perché adesso devo sostituire la relazione asterisco e lambda J già stavano occupati allora sostituendo la relazione asterisco ottengo la somma per J che va da 1 J a K J diverso da J1 alfa J doppio J più mu con 1 per la somma del J che va da 1 a K lambda J WG uguale a vettore nullo però attenzione che W1 con WG1 ci compare solo questo termine qua mu con 1 lambda J1 WG1 vedete qua l'indice J1 non c'è qua l'indice J1 c'è il coefficiente lambda J1 lo devo moltiplicare per mu con 1 allora questa qua se la raggruppate che cos'è? è una combinazione lineare soltanto dei vettori WG ok? allora che succede? che in particolare questo coefficiente è diverso da 0 perché il prodotto di questo che era diverso da 0 ipotesi è mu con 1 che stiamo supponendo per assoluto che sia diverso da 0 cosa abbiamo trovato? abbiamo trovato che in questa combinazione lineare dei vettori WG che è una vettoria di una base c'è un elemento questo qua questo vettore qua che c'è il coefficiente davanti non nullo che vuol dire che W1 W2 WK sono linearmente dipendenti e questo è assurdo l'assurdo è derivato dall'aver rigorizzato che mu 1 fosse diverso da 0 quindi mu 1 è uguale a 0 quindi W1 W2 WJ1 meno 1 W1 WJ1 più 1 WK è parte libera allora lo ripeto questo primo passaggio perché è fondamentale allora io cosa faccio? ho i vettori di questa base questa è la base più lunga questa è la base più corta ipoteticamente ce ne sta una più lunga una più corta poi vedremo che questo qua se K fosse maggiore di H conduramo a sfidore allora che cosa faccio? prendo il primo vettore di questa base qui questo vettore si deve poter scrivere come combinazione lineale dei vettori degli altri un coefficiente deve essere diverso da 0 almeno 1 allora prendo un vettore di quelli del tipo W con il coefficiente diverso da 0 lo prendo e lo rimpiazzo con W con 1 e dico che quello che ottengo è ancora una base ma quello che ottengo che cos'è? ho preso i vettori di prima al posto di W più G1 ci metto W con 1 e poi vado avanti con quelli di prima e devo dimostrare che è una base allora la prima cosa questo vettore qua che era quello che ho tolto si può scrivere come combinazione lineare di W con 1 e degli altri vettori di W con 1 che significa che quando vado a fare lo spend di questi vettori qua il vettore che ho tolto ci sta ma se ci sta il vettore l'unico che ho tolto vuol dire che lo spend dei vettori nuovi contiene lo spend dei vettori vecchi ma lo spend dei vettori vecchi era tutto W e quindi vuol dire che quello che ho ottenuto rimiazzando W con W con 1 è ancora un sistema di generatore ma non mi basta per dire che una base devo dimostrare che è un sistema di generatore ma anche una parte libera allora vado a scrivere una combinazione lineare come si scrive adesso una combinazione lineare la combinazione lineare si fa la combinazione di W più un coefficiente per il vettore W che ce l'ho messo perché pure lui ce l'ho messo dentro la base nuova allora se questo coefficiente fosse 0 la combinazione lineare sarebbe solo dei vettori vecchi e quindi automaticamente tutti gli alfa j farebbero 0 ma se invece questo qua non è 0 allora posso sostituire la relazione che c'era all'inizio e ottengo questo ok perché W con 1 è la somma di lambda j Wg ora vedete per esempio W2 qua W1 ci sarà F1 W1 più W1 lambda 1 W1 e si possono mettere insieme a bar però Wj1 compare solo qua qua non c'è e con che coefficiente compare? compare con questo coefficiente qua ma questo coefficiente qua è diverso da 0 perché? perché in un campo quando moltiplico due numeri diversi da 0 il prodotto è diverso da 0 quindi che succede? che questi vettori sono linearmente dipendenti perché ho ottenuto una combinazione adesso vedete W con 1 non c'è più ci sono i vettori di prima prima era una base una base era parte libera ma io ho visto che questi vettori di prima sono linearmente dipendenti questo è un assunto e quindi da dove è venuto l'assunto dall'avere ipotizzato che W con 1 fosse diverso da 0 allora W con 1 è uguale a 0 se W con 1 è uguale a 0 tutti gli azioni uguali a 0 allora può dire che questa qui è una parte chiaro? ok adesso vadete bene per semplicità rinominiamo riordiniamo i vettori di W1 WK in modo tale che il vettore sostituito sia W1 quindi la nuova base è W1 W2 WK cioè quando ho fatto questo ragionamento W con 1 non va a sostituire W1 può andare a sostituire W1 soltanto se il coefficiente di W1 nella relazione asterisco era diverso da 0 magari andava a sostituire W7 però io dico se lo sapevo prima W7 qua lo mettevo al posto di W1 e questo lo posso sempre fare posso sempre supporre per quale motivo perché l'ordine di questi vettori qua non è importante cioè io posso sempre supporre che il vettore W1 vada a sostituire il primo di quei vettori ok per quale motivo l'ordine è importante diciamo mettiamo che prima l'avevo ordinato in maniera tale che W7 stava che stava al posto di W1 quindi vado a sostituire il primo di quei vettori quindi diciamo non è più precisamente dovrei dire non è restrittivo supporre che J1 sia uguale a 1 non è restrittivo che J1 sia proprio 1 per quale motivo perché adesso devo fare il passaggio generale allora per fare il passaggio generale devo agire per induzione allora per agire induzione su che cosa sul numero dei vettori sostituiti chiaro ma nel momento in cui vado a fare questa dimostrazione per induzione mettiamo che ne ho sostituiti M ok una cosa è che gli M che ho sostituiti stanno sparsi qua dentro una cosa che siano i primi ok chiaramente nel secondo caso i conti rendono molto più ordinati ma questo lo posso supporre perché invece di diciamo dopo averne sostituiti M io posso sempre supporre che quegli M me li erano portati in un ordine li avevamo messi all'inizio e quindi avevo sostituito esattamente i primi allora adesso continuiamo quindi per induzione posso posso imporre di aver sostituito diciamo che V1 WM WM più 1 WK sia ancora una base una base di cui voglio mostrare che se M è minore di H allora 1 WM WM più 1 WM più 2 WK e ancora una base di V ok cioè supponiamo che io ho sostituito fino a M supponiamo che non ho finito con i vettori V che M è minore di H allora posso continuare chiaramente quando sarà arrivato alla fine se dimostro questo passaggio qui cosa succede che il teorema è finito perché continuo 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 quando arriva V con H ma se arriva V con H due sono le possibilità o K è uguale a H e va bene allora sostituito la base W con la base W e hanno la stessa lunghezza se invece K fosse maggiore di H che cosa succederebbe succederebbe che avrei due basi quella fina V con H con questi vettori aggiunti e quella fina V con H e basta una contenuta dentro l'altra e questo sarebbe assurdo perché abbiamo visto prima che non posso avere due basi una contenuta dentro l'altra allora dobbiamo fare il passaggio generale allora come dobbiamo fare adesso allora io vado a scrivere adesso vado a scrivere V J più uno come lo scrivo lo scrivo V M più lo scrivo come la somma per J che va da uno fino a M di mu con J Q J più la somma per J che va da M più uno fino a K di lambda J Q Doppio J allora questo qua deve essere una combinazione di questa base della base di sopra allora si deve scrivere una combinazione dei primi siccome i primi si chiamano mu ci metto dei coefficienti che li chiamo mu come primo quegli altri ci mettono dei coefficienti che li chiamo lambda come primo dico che questi lambda non possono essere tutti nulli perché i coefficienti lambda J non possono essere tutti nulli perché se tolgo questa parte avrei scritto V M più uno come combinazione linea dei V con I per I che va da uno a M questo non è possibile perché quella di prima solo i vettori V sono una base e quindi essendo una base sono i limiti di vendetti non posso prendere uno e scriverlo come combinazione linea aria a questo punto non è restrittivo supporre lambda lambda m più uno diverso da zero stavolta cambio il nome a questi W in modo tale che vabbè qua un coefficiente diverso da zero suppongo che sia lambda m più uno allora che vuol dire vuol dire che W m più uno lo posso scrivere come a meno lambda m facciamo tutti i passaggi questo deve essere uguale a somma che va da uno a M mu con j u con j meno u con m più uno più somma per j che va da m più due a k lambda j cioè doppio a m più uno è uguale a meno uno più lambda m più uno per la somma per j che va da uno fino a m di mu con j mu con j ora abbiamo più uno su lambda m più uno vm più uno vm più uno ora abbiamo meno uno su lambda m più uno somma per j che va da m più due a fino a k di lambda j cioè io ho scritto questo vettore qua come combinazione linea cioè al posto di di quelli che c'erano prima e poi di questo apposto su quindi w m più uno appartiene allo spen di v con uno v con due v con m più uno w m più due w k questo vuol dire che lo spen di v con uno v con due v con m più uno w m più due w k è uguale a v come prima perché qua prima rispetto a prima ci ho tolto solo questo tutti gli altri ci stanno questo lo posso ottenere e quindi vuol dire che posso generare tutto quello che potevo generare prima ma prima potevo generare tutto v e quindi questo rimane un sistema di generatore l'ultima cosa da mostrare è che questa mostriamo che v uno v due v m più uno w m più due w k è parte libera il prossimo che sbuffa me lo segno perché allora il problema non è che io voglia fare delle dimostrazioni lunghe il problema è che questa è l'essenza del corso allora fare questa dimostrazione significa cercare di capirla non è tanto io questa qua l'esame in genere non la chiedo però se fate lo sforzo di capirla vi mettete la e la capite tutto il resto verrà più facile se non l'avrete capita allora io cosa ho fatto vedere ho fatto vedere che se al posto di w m più uno ci mettevo v con m più uno rimaneva un sistema di generatori quello che devo far vedere è che è ancora una parte libera allora prendiamo una combinazione lineare dico sommatoria per G che vada uno a m più uno di alfa j v j anzi la voglio scrivere così più alfa m più uno v m più uno più somma per G che vada m più due a k di beta j di doppio j uguale a vettore nullo io cosa devo dimostrare che tutti i coefficienti sono nulli sono nulli ok allora io dico se questo coefficiente non ci fosse se questo pezzo non c'è questi ci stavano pure nella base di prima e allora automaticamente tutti gli altri coefficienti sono nulli se alfa m più uno è uguale a zero gli altri coefficienti sono nulli perché gli altri vettori già appartenevano a base già erano in una base allora supponiamo per assurdo supponiamo per assurdo alfa m più uno diverso da zero sostituisco star la star era se vi ricordate era che v con m più uno era uguale a somma del j che va da uno a m di lambda j v j di come l'avevo chiamati lambda o mu o mu la pare lambda poi c'era mu j più m più uno un doppio m più uno più e questo era diverso da zero e poi c'era somma per j che andava da m più due a k di mu con j doppio j quando vado a sostituire mi verrà somma per j che va da uno a m di alfa j mu j più alfa m più uno somma per j che va da uno a m a k u con j doppio j uguale a vettore nulla ora questi vettori non sono quelli della base nuova sono quelli della base di prima e questo questo era diverso da zero questo era diverso da zero questo è diverso da zero e quindi che cosa otteniamo che i vettori della base di prima sarebbero linearmente indipendenti e questo è assurdo siccome l'assurdo è derivato dal fatto dall'aver supposto che alfa m più uno fosse diverso da zero vuol dire che alfa m più uno deve essere uguale a zero ma se è uguale a zero gli altri coefficienti sono nulli e quindi è parte di prima quindi la nuova è ancora una base quindi se ho potuto sostituire w uno con v uno poi ho potuto sostituire anche w due con v due w tre con v tre vado avanti vado avanti vado avanti alla fine arriverò arriverò a ottenere che v uno v due v h w h più uno w k è una base ciò è assurdo se k è strettamente maggiore di h se k è uguale a h vuol dire che i w sono finiti e va tutto bene se k invece è maggiore di h otteniamo una base dentro un altro questa è una base ci tolgo questo questa qua è una base per ipotesi all'inizio e quindi otterrei un assurdo quindi l'assurdo si ha si ottiene se k è maggiore di h quindi k non può essere maggiore di h k deve essere uguale a h ok allora ripeto in maniera tale che chi vuole chi ha un po' di santa pazienza se lo va a rivedere e cerca di capirlo allora l'idea qual è io prendo due basi ipoteticamente una è più lunga faccio vedere che non è possibile allora c'è una base da 7 elementi e una base da 9 perché non è possibile prendo v con 1 il primo elemento della base da 7 quella più corta e lo vado a scrivere come combinazione lineale della base più lunga ci sarà un coefficiente diverso da 0? ecco il punto chiave per fare i conti in maniera non troppo difficile è che io potevo aver ordinato chiaramente la base da 9 in maniera tale che il coefficiente fosse proprio su w1 io all'inizio il primo passaggio l'ho fatto non supponendo questa cosa però è chiaro che prima di proseguire potevo riordinare in maniera tale che il coefficiente diverso da 0 stesse vicino a w1 allora che vuol dire prendo v1 e lo sostituisco a w1 faccio vedere che rimane una base rimane un sistema di generatore rimane una parte di va bene allora poi che faccio prendo v2 vado a fare a scriverlo come combinazione lineare della nuova base cioè di v1 e di w2 non può essere combinazione lineare solo della parte dei v non può essere che è combinazione lineare solo di questi perché altrimenti porterei una relazione di dipendenza lineare sui vettori della base v quindi qualcuno che è quello che ho scritto sulla parte che ho cancellato ok quindi ci deve stare qualche coefficiente su w2 w3 eccetera allora suppongo anche qui che il coefficiente diverso da 0 sia vicino a w2 allora che cosa faccio sostituisco w2 w2 poi sostituisco w3 w3 poi vado avanti suppongo di essere arrivato a m se sono arrivato a m posso sostituire anche w con m più 1 al posto di w m più 1 in ogni caso rimane una base ma se lo posso fare sempre continuo 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 quando mi fermo quando sono arrivato ad h perché io sapevo che h era minore o uguale di k ma quando sono arrivato ad h io che cosa ho fatto ho ottenuto che questa è ancora una base perché ogni volta che facevo la sostituzione non perdevo la propietà che quella nuova era una base ma questa è una base questa è una base solo una contenuta dentro l'altro è una sola a meno che k non sia uguale ad h perché se k era uguale ad h la sostituzione era completa non c'era una base contenuta dentro l'altro e quindi quello può essere quindi l'unica cosa l'unica diciamo caso che rimane possibile è che k sia uguale ad h questo dimostra che k non può essere maggiore di altro cambiando i ruoli delle tue basi ottenete che k è minore o uguale ad h ecco questo ok quindi questo qua si chiama teorema della dimensione perché perché adesso la lunghezza comune di tutte le basi si chiama dimensione dello spazio del teorema ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti